Allora signor Alex, come l'abbiamo già detto ci sono gli oggetti custom, tipo questa, che è molto bella Ti dovremmo fare il totem, quindi per domani dovresti già avere il tuo totem, se verrai qui Quindi domani avrai il tuo totem Intanto ti possiamo... Da cosa vuoi iniziare? Case o luoghi custom? Case, case, case Ok, allora, io per fare un advancement ho messo questo fottutissimo cartello che... Vediamo Intanto mettiti le shaders che si vede ancora più bello Spero ti piaccia la pack che abbiamo realizzato Sì, molto bella Prima o poi aggiungeremo qualcosina di custom Allora, in pratica questa è la casa di Tommy, ovvero un pipo Bella casa Sai cosa cantava sempre Tommy? No Di riconoscimento Poi questa è la casa di Luca che l'altro giorno ho aiutato un po' a finire Allora, l'unica cosa che mi piace sono i pirassi Vai, prima sopra Che c'è il suo? Salta E questa è la casa di Luca Molto arredata, diciamo Su L'ho finita ieri Aia No, non l'hai Li fai, li metti nel bunker Eh, tra un attimo Allora, qua è il luogo da cui ho cilato... Eh, mangia Da cui ho cilato il pesce di Luca che Alex ha appena ammazzato Ah, quello che sto mangiando adesso? Esatto Eh, vabbè Questo è il cane di Luca Cioè, un cane Qui non ha un nome, va bene Aspetta una cosa Vuoi vedere una cosa molto bella che fa il cane? Guarda, eh La mia cuccia? Guarda il cane cosa sta facendo Cosa guarda il cane, eh? Ale? Guarda il cane, come è interessante Con le mie scale Ce la fai, Alex Io la devo picchiare oggi Il cane è molto interessato Vieni, Ale, ti do una cosa Mentre, di qua Aspetta, eh Aspetta un attimo, Doc Che devo dare la roba d'Ale Io l'ho del legno Ale, Luca, dopo di fuori tira fuori la tonno, Staff Gliela dobbiamo far vedere, però di fuori Eh, io gli devo dare un'altra cosa adesso Ah, ti tira un pugno, ti tira un pugno Ce l'abbiamo Aspetta Ti arrivo in pugno Te lo tirerò con questa Va bene Andiamo No, dovevo alzarmi i volumi Vabbè, andiamo Ma raga, ma le mie scale Allora, in pratica qua abbiamo costruito una specie di bunker C'è una piccola zona molto carina Basta che vai dritto Cratta con il camper dove c'è l'enchant Con le shaders è ancora più bella Ecco, con le shaders è fighissima Senza shaders sicuramente Senza shaders è bruttissima Te lo giuro fa schifo Non provo nemmeno a costruire Perché qua dovevamo creare un'altra zona Ma non l'abbiamo ancora finito Mentre di qua Indovina un po' dove si sbuca Ragazzi A casa tua No, vabbè, è un genio E niente Mi hanno scammato le ladder Devo fare reclami Te le sei rotte tu quando hai messo l'acqua l'altra volta Yes Qui in pratica si sbuca davanti sopra casa mia Ora ti chiederai che cosa servivano le draptor Salta E l'unico, l'ultimo luogo dovrebbe essere questo qua, guarda Ovvero la casa di pentola Ah, il sole che male È meglio la stradina qua Questa è la zona Questa è giungerci dei bottoni Sì, hai ragione È la zona, diciamo, più carina del server Ovvero dove c'è pentola Carina, molto bella Ma noi ce l'abbiamo mai più avuto, ne Anvil Ma con sto shaders l'arbre è bellissima Sembra tipo verdogna Con la texture di Emerald in pratica le foglie diventano colorate ed è ancora più bella Perché non c'è ne Anvil Fatti shaders No, per favore, ci ho messo quattro anni a portarla qui Una mi ha già morta perché qualcuno l'ha fatta esplodere Almeno hai un altro motivo per giocare in sto mondo Vieni qua Grazie Ah, siccome sono esplose due Anvil Vabbè, intanto ti faccio vedere questa Che la torno sta Ma? Che figlio cos'è? Questa è come la metti nella seconda mano Quello che succede Ma è una pacchetta magica? Cos'è? Una spada? No? Sì, è una spada in diamante Sai la cosa più bella? Che è l'ultimo pixel E questo qui non sono texturizzati Sì, perché vabbè, c'è stato un piccolo problema Che Minecraft non me lo legge Vabbè, Doc Ma quanto è quello? Scusi, si metta quella, lei Ah, ma ce l'hai te? Eh, io che la stavo Stavo a cercare mezz'ora Per fare una spada Lì, se la tua è la spada in diamante La sua cos'è? Sono entrami diamante Non scambia un attimo Io ti do questa temida e quella Dai che non la voglia Droppa Dai Chi mi trova vince No, 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 no Va a cagare C'è anche dei euro che mi trova Metti qua Ti la do, dai No, io volevo la mia tono, staff Non mi interessa la spada in diamante Nessuno mi viene Ma perché non c'è un aim builder? Vabbè Craftala E devo vedere come una craft Con i diamanti Non mi hai trovato, vabbè Che famo? Io la diminiera Non lo so, facciamo a casa tua? Arrivederci, signori Ma almeno rinominala la zucca Ma perché non vedo i buchi? Vedo normalmente Perché è stato rimosso l'overlay Sì, l'abbiamo rimosso Dove l'ho messo il buchi? Sì, non è che siamo potenti Siamo protection 1 Non è che abbiamo nulla Io però ho questa Eh, io ho questa È molto più sus E adesso Eh Cosa stai facendo? No, mi sto Mi sto godendo Che hai detto? Bro Non ho Mi scufi ma non l'ho capito Tocche? No Oddio Non è che cosa? Ariani ma l'ho posto a po' Che bello Mi stanno salvando Mai vista queste azioni tutta la vita Occhi di ragno Lei non è mai stato salvato La c'è un portale del nether Sì E c'è anche la trappola Sì, in pratica Luca mi ha fatto crepare Voglio vederla No scherzo È troppo È stata un po' tappata Però c'è ancora Sì, è che abbiamo Volevo usare anche No, l'ho usata su Tommy Effettivamente Faccio il bagnetto E lo spieghi Mi fai A sto poraccio però Gli voglio dare qualcosa E io stavo cercando Nel Ma che è Ho due pezzi di pane in croce No, ne ho 33 Cioè Povero a chi Ma a me Ma Ho pure un semino No Aspetta Un seme Eh Ho pure due semini Quindi te ne posso regalare uno Ma massima sei te al poraccio Te non hai due semini Io ne ho uno Grazie Siete al poraccio Ora mi sento importante Con un seme in testa Ah giusto Ecco Allora Devi sapere che lui è un bastiano Perché No zitto Eh Spieghiamo dopo doc Per favore Per favore saltiamo fuori Discussivo No È semplice Che il plugin Che c'è Per favore Funziona solo sull'erba L'erba Cazzo doc Adesso bisogna farlo però Adesso 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 C'era il flitestile Che ne vuole Va bene Questo Abbastanza caldo No L'erba Ah che dà Aia Bagno caldo Ah bagno caldo Che bello Ma dai Ma che shifti Adesso si vede Fare altri 400 blocchi a piedi No io ti lascio La zucca Doc Le coordinate Cosa sono Tre Così tipo Mi pare Si ricorda Leggere le coordinate Comunque Non ci gioco Da dieci mesi A minecraft F3 Ok ce la posso fare Tutto dritto di qua Ce la posso fare Dritto Voi credete in me Io no Perfetto Bravo bro 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 E lui ha Bro 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 Ah ma qua c'è Bro Dopo praticamente un mese Che c'è Mi sto ricordato Adesso che Sotto casa mia C'è un blocchetto Milardi 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 Di blocchi Milardi Non è una buona idea Mi mancava L'unica cosa che mi mancava Di minecraft E' far parkour Negli alberi Ok Ti porterò in una mappa Allora magari Ragazzi E' vero I minigames Su minecraft Di certo Di certo Io adesso me ne vado Ciao a tutti Ma no I minigames in generale Sto scherzando Adesso dici Dopo facciamo parkour Tra quanto è che devo andare Scusate Adesso In realtà si vado su GTA 5 Se vuoi Certamente Tra quanto Peccato che io Non lo so Dopo un'oretta di live Ah è vero Cazzo Anche perché io voglio fare Un enby Quindi ormai Aspettate Io voglio fare Il rito Di bruciamento Di una cosa Sì Ok allora devo andare 13 minuti Peccato Mi stavo incominciando Ad andare a divertirmi Più o meno E intanto poi Domani se vieni Ti divertirai Eh vabbè ma se torni Tanto noi ci siamo Non posso più correre No Ehi Ehi Prendi Qua 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 Vieni qua Ale Vado per fettare sul pene Vai C'è una cosa Codiamo un po' Ah Te ne ho data un po' eh A me c'era la coca cola Che buono Ci viene ancora Porco Porco Io l'ho finita Aspetta Aspetta Guarda lo zombie Guarda me Guarda me Yeah Sai che se ci muori Sai che se ci muori No No Che spavento Mi vogliono male Sti mostri Madonna Vuoi evitare di crepare Vieni Volevo far smifare il ragno Volevo far smifare il ragno Vabbè in pratica questa era microonde smp Se ti piace Non c'è un cazzo C'ho soltanto i semi e le canne da zucchero Te, Mini e Lighe No ci siamo io Mini Lighe Tu Poi c'è Ter E c'è anche Andre Se non sei per il momento Ma io non ho mai capito una cosa Rispondimi a questa domanda Su Mini Grazie Ma lui Allora Momento importante Lighe ascolta anche te Ascoltatevi tutte e due Io non ho mai capito una cosa Forse quanto lavoro Questo resto Se vi risponderà lui Ma Mini C'è la Mini O c'è la Max Ma È una domanda legittima Ma inizia con Mini Per cui secondo me c'è la Mini Ah C'è la piccola Ma lui è grande Eeeh Vero Allora Doc Faccio vedere ad Alex Il totem Il totem Gliel'ho già fatto vedere Questo qua Alex Se mi confermi che continua a giocare Te lo faccio su Te lo faccio Dopo Dopo mi ci metto Tanti a tipo due minuti E te lo faccio anche a te Così anche te puoi avere Il tuo totem custom Eeeh È un piccolo bonus Non so se farti Usare tanto tempo Perché No ma tipo Ma praticamente prende il PNG Della skin Perché sinceramente Per ora non ci vuole giocare A Vanille Quindi No ma No ma Vabbè Noi entrerò per Visitare cose costruite Ah Aiuterò di forse A fare delle costruzioni Quando avete Ma guarda che Non è che siamo tanto avanti Beh effettivamente Sì Perché Avevamo due enzili Un tempo Però ho fatto forse Dieci live qua Ho giocato troppo ormai Vabbè Vabbè Io ho costruito una casetta Un cosino E un piccolo bunker Ma c'è sempre tempo Per recuperare Sì Ma no ma non c'è Poi ti aiutiamo Tanto volevo Di far Vanille così Ah ok Allora magari parteciperai Di più ai giochi diversi Sì sì A minigames Altri giochi GTA 5 COD Mi sono scaricato Che GTA 6 GTA 7 No 6 GTA 6 GTA 6 sta per uscire Forse Beh Già e tanto si esce Un DLC per PC Su GTA 5 Durante l'estate Ci sta come no Perché Sa E sono speciali Con i GTA Allora Ale Se devi andare Buonanotte Magari ci seguirai Dalla chat Sì più tardi forse Vabbè ciao Ciao Notte Notte Ciao a tutti Ciao Non si accendono più i led Gli ho rotti Che bello Io ho messo a craftare Un coso eh Ho preso un bel po' Di Di erro E ho iniziato a fare la Envir Io devo cercare Di fixare Sti led Però eh Dacci una botta Sola Ci ho già provato Gli ho preso Amanda E gli ho dato Una botta Gli ho fixati Ho messo un pezzo Di scotch Ora ho un pezzo Blu Un altro pezzo Azzurro E uno verde Basta Ah Va bene Basta Quindi domani Andiamo avanti Sui fronte Giusto Torna dai Ma hai detto basta C'ho sei livelli Eh C'ho sei livelli Minchia tantissimi Cos'è che ti ama aiuto Ti ricordi l'altro giorno Che siamo buggati E mi ti ho ammazzato Mentre eri vivo Cioè No aspetta Ah sì Vabbè Più o meno L'altro giorno Non penso funzioni Ho ragione No Io Dicolo Ah questa è un giustizia Ti seguo Allora oggi dobbiamo finire La base operativa Almeno l'atto 1 Dobbiamo Ah Pensavo Eh andiamo a fare lo stoccaggio marino Andiamo Ma cos'è sto stoccaggio? Non ho ancora capito Eh quello per le cast Dai Le chest Andiamo giù dai Che cazzo sono le cast? Le chest Vieni giù Lo stoccaggio marino Sì bisogna scavare Praticamente No io direi che Sì c'è da scavare Questa parte qua Ma vuoi fare un piano sotto O un piano sopra? Io inizierei con un piano sopra Questo più quello sopra Giusto? Sì Che per ora Temporaneamente Lo dividiamo a metà E quando poi non c'è più spazio Facciamo una parte sotto Qua ci abbiamo tanto materiale Grazie 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 Dove altri? No Tieni la tua stack di frecce Perfetto ora una stack di frecce Aia Come si fa la deep slate coso? Dai aiutami Vai Scava questa te nel frattempo No la mia torcia Tieni la tua cacchia di torcia Tu piazza io scavo Dai vieni qua No ma come si fa la coppia di deep slate? Se me la dai te la crafto No no aspetta I questi Ah ok vedi Questi ah ok vedi Io non posso vedere Non posso sentire Non posso fare un Ok E sai qual è la cosa più bella? Eh Minecraft non si è sentito finora Ah Vuoi non Non ho l'audio Sì esatto Ok dai inizia a lavorare Non ho deep slate È lì Scavola Per tuo cavolo di piccolo Trasformati in una trivella Aspetta Aspetta Crafto la trivella Crafto la trivella Doc Non posso farla Perché non l'ho messa Nella texture Con quella di Eme Ah giusto Non ricordavo più se L'ho Fattato No che io si Oh sono stanchissima raga Non ce la faccia È un disco rotto Cioè hai craftato la deep slate Nell'anvil No Volevo vedere se c'era la diamond drill Nella texture Cioè forse Forse c'è perché Te l'ho messa io Cioè l'ho rifatta io Però Non mi ricordo come andava rinominata Se te lo sai provaci Tanto io lavoro Sennò se non è sfruttamento Deghega Non è male Sì sì No non c'è Per caso No in verità dovremmo fare Faccio io Se fai qualcosa Puoi smantellare quello per favore Vroom 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 Ahia che laggata Salve dopo Ok Ok Parenti di cosa le facciamo? Di chest No dai seriamente Eh Ma Qui ci vorrei mettere qualcosa Non la ceramica non schifo così Eh ci ho messo la cobblestone E anche le palle Se vuoi ti dipingo di bianco casa Oh caffo Fiove dal foffitto La mavia La magia Ok dai Seriamente Cosa le facciamo le dips Le pareti Che ci può star bene Quarzo I miei led Sono speti di nuovo Sì io farei quarzo Lascio la doppia chest qui Con tutto il materiale Che ci serve per il magazzino Vado a fare il quarzo Cioè io vado lì e dico Ciao io sono quarzo Assumetemi Io sono quarzo E io sono nether E insieme siamo i nether contro te I nerd contro te Guarda che bello Guarda che bello come ci sta qua Le merd contro te doc Le merd contro te Le merd contro te La marla è mea Cuocio della roba nelle tue Fornaci Forno a microonde Ma è un forno o un microonde? Non lo sapremo No è un forno che va a microonde La mia torcia Mi spieghi Mi serve tanto quarzo Che l'abbiamo Mi tocca Non so dove lasciare Allora Vado a mettere le blazer Lascio la gunpowder qua dentro Non c'è che abbiamo veramente poco Vraimenti poco Patate doc Le patate No So mie Dobbiamo andare a scoprire pazzi Ci sono sparite le cose Che peccato Non ci riesci Non ci riesco a far cosa Scusami Raccogliere lì Parlati Diamo un po' Nel quarzo Diamo nel quarzo Raccogliere un po' di roba Dai Nel nether Raccogliere un po' di quarzo Ti servono Eh lo sai che ci serve Un botto di quarzo? Eh ma io ho il piccone Praticamente rotto Devo farne una nuova E fanno un altro Io non te lo faccio Stavo Per poi venire a scoprire Abbiamo una chest Abbiamo una chest Qua Stiamo praticamente facendo Il magazzino Vai a vedere come ci sta bene il quarzo No mi serve Come si rinomina l'ascia? Beh la craft Eccola Come si rinomina l'ascia doppia? Eh diamond combat axe Puoi andare a mettere via questi? Allora io direi Lasciamo gli oggetti Che possono essere utilizzati Per le passioni qua Ah ok bravo Mi aiuti a raccogliere Un bel po' di quarzo Perché guarda un attimo Guarda Ci sta bene dai Non fa schifo Sì Allora Questo ha fortuna uno Però È praticamente rotto Non so Se hai Per ripararlo Te lo lascio E me lo riparo Me lo riparo Nell'envil Mettendoci Il mio altro piccone Che mi sono appena fatto No dai Mi sono andato a casa L'envil è qua Ok Non lo so Facciamo un pochino di nether A raccogliere il quarzo E poi GTA 6 Esatto GTA Costo 9 Se faccio così Costo 2 Efficienza 3 Che costo 2 È OP Sta roba Ah sì Non c'erai neanche Commanding No eh Che me potrei Ciulare Eh con 15 livelli Avrai forti Uno Quello commanding Ce l'ho Dov'è il coso Scusi A che fine Ho fatto il Lapis Dammi 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 Lapis Sì C'ho 6 C'ho 6 C'ho 6 shot di Regeneration Ok Andiamo a fare Guarda che bello La tonno È la tonno Staff Comunque è leggermente Rotta la tonno Lo so Lascia perdere No intendo Il pesce è un po' Allungato Vabbè Andiamo Si fa prima Da casa tua No da casa tua Dobbiamo andare nel mezzo Semplici da raggiungere Vediamo un po' Che arriva prima Al portale E a casa tua Bisogna farci Gli ascensori Per salire E scendere Anche da te No da me no La mia è già Piano Piano terra La mia è già Sotto terra Vediamo un po' Chi arriva prima Se le tue trap Aveva ragione Ah Vedi chi aveva ragione Qualcun altro Effettivamente Perché Da te ci vuole Troppo per le scale Se no Si arriverebbe Prima da te E beh Effettivamente Aspetta Prendi Quella qui Conta Ci vuole un pochino Dobbiamo fermare un bel po' Ci servono Più o meno Con 4 di quarto Si fa un blocco E 64 64 9 Beh Sui Quasi 10 stack Più o meno Beh Noi ne raccogliamo Il più possibile Allora Andiamo in una zona Più pianeggiante Iniziamo a raccoglierlo Qua no Qua non conviene Si casca e basta Scusa Non ci danno De cubi di Ah che pasta Volevo scendere lì Ma Si può Ho sbagliato Di qualche blocco Beh con fortuna Uno si fa prima Eh però Però il tuo piccolo È velocissimo Lo so E io ci avrei ancora Ci avrei della nederita Da usare Quando l'hai raccolta Quando l'hai raccolta E me l'avevi data te Poi te la sei riciullata Si ma eravamo uno Io ti dovrei picchiare Che questo No Ah ma non mi serve lo scrap Mi serve Davvero effettivamente Vabbè La prossima volta Vengo a farmare Un po' di nederita E poi Mi metto lì Piano piano Scamano Sparco più Dove sei? Sono sceso giù No Ah che prosciutto Carma Un po' si è morto No Mi serviva un po' di nederla Uh Beh da tanti livelli Però la cosa Vedi guarda Quasi quasi Vorrei poi Fare una farm Di piglin Che ne dici? La facciamo Che da tanti livelli Perché piglin Sono hard Da uccidere Tappiamo qua Questa lava Eh Facciamo le cose Fatte bene Scusa un attimo Puoi scavare Quello Grazie Se no La strada Rimane rotta Qua Qua c'è tanta roba Andrei Però aspetta Butto questo Nella lava Scusa Scusa Anche se non brucia Però Va bene così Però me lo dovrei Mi presti l'arc Perché? Perché se non la Ma Vabbè Lascia stare Tanto Se gli altri piglin Non sono caricati E non Non sanno Perché si caricano Come la balestra Che la devi ricaricare Poi sparano Si infilano la spada Nel culo E poi la tirano Ho capito No Non funziona Così Questa Io C'ho già Uno stack Ma quanto Velocissimo Da 5 livelli Sono già 11 Io vado A scavare Più spesso Il quarzo Se lo dico Di già Se mi trovo Perché sono A scavare Quarzo Eh ma Con forti Uno Ti dà di più Non di livelli Fortuna Si un pochettino Di si Si Vanno Di potessi Io ho fatto Mezzo livello Fino adesso E ne ho scavato Anch'io Eh Sì Di che Io sono A 12 Posso Inchantarvi Bene Io ero Già A 12 Zio Mi metto Waypoint Qua Allora Te vai a giro Ognuno si separa E poi ci ritroviamo qua Eh ma tra 5 minuti Si va giù Su Ghizia 6 Bene Invecino Dai Su Shittia Allora Questo piccone sarebbe perfetto Commending Commending Non lo vendi Eh te Il tuo piccone Commending No No Mai morto Tua madre Io sono andato Nel bastione Ti sono schioppato Per liberarti Il piccone Non è che io mi son preso Il piccone Il piccone L'ho trovato Nell'altra zona Ti ho chiesto Tu vuoi andare Tu te ne sei andato Da una parte Allora io sono andato Nell'altra Ti ho lasciato Libera scelta E poi sono Cassi del dock Eh Ho uno stack Adesso Io sono già A due stack Io a 17 livelli Tre stack Adesso Più o meno Va veloce Dai Io pensavo Ci volesse Non avevo già più voglia Mi preferisco Tornare a casa Io Vabbè Ti vai Intanto Ti lungo Ancora un po' Eh ma allora Siete Ma i piglin Non mi vogliono male Babbino Uccidere bambino È ammazzato bambino Ah bambino morire Bambino morto Ah bambini morti Puoli No Tocco farmi Quelle cose Il tastiero Sì farmi con la tastiera Bravo Bravo Perché tu farmi con Il volante Sì io ho attaccato Del volante A minecraft Con i pedali Vai in In avanti E con il volante Vai avanti Vero Ah sì Perché gli altri setaggi Erano troppo banali Erano troppo banali Troppo banali Dai dai Abbiamo fatto veloce Adesso vediamo Un po' Dai Non ci credo Io non sono neanche Uno stack Di cose Hai detto due Di quarzo Non ho neanche Fatto uno stack Ma ne hai Fatto due Di blocchi Di quarzo Non sono neanche Uno stack Oh beh perché io E avevo Tre stack Letteralmente Io ne ho Venti di blocchi Ma come Venti blocchi E uno stack Di quarzo Il cibo Del maiale Il ma 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 Vola Vola Vole A primaria Ola Matti Ola Scusa se t'ho visto solo adesso Ho guardato la chat adesso Ma il suo tanto server Non lagga No Non lagga il server Ma non lagga mai Questo server Sempre preciso Perfetto Punto Giusto Cotto a puntino Io direi Come nel Quarantasei È solo per far rima Ah Sei Sei Scemo Oh Che ridere Anche te Vedo che fai tante rime Oh Madosca Signor C'è la Lei che mi sta assiderando Vado a prendere Il metteratore Signori